Come aggiungere il testo sul vostro profilo TikTok? La procedura è molto semplice, vi basterà premere sul testo e scrivere quello che volete. Una volta scritto potrete andare a scegliere ad esempio di aggiungere un bordino intorno oppure andare a mettere uno sfondo. Una volta scritto il vostro testo, andando a premerci sopra potete selezionare tre opzioni. La prima vi permetterà di editare il vostro testo. La seconda vi permetterà di andare a selezionare per quanto tempo volete andare a definire che questa scritta sarà presente all'interno del vostro video. E infine la terza opzione vi permetterà di far parlare TikTok e parlare con la vostra voce.